Nella seconda lettera di Pietro, nel capitolo 3, versetto 16, leggiamo che nella Bibbia, soprattutto anche nelle lettere dell'Apostolo Paolo, ci sono delle cose difficili da capire, da comprendere, che le persone ignoranti e instabili travisano a propria condanna. E quindi bisogna stare attenti quando si leggono certe frasi dell'Apostolo Paolo, lo dice quindi questo, lo dice San Pietro, no? Stare attenti. E infatti i testimoni di Geova vanno a prendere alcune parole che scrive l'Apostolo Paolo nella prima lettera di Corinti, nel capitolo 15, i versetti 25 e 28, e gli fanno dire, in pratica, alla Bibbia, gli fanno dire quello che in realtà la Bibbia non insegna. Queste parole le troviamo appunto in 1 Corinti 15, 25 e 28, sono le seguenti, che vi leggo testalmente. Bisogna infatti che Gesù regni fino a che non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Quando poi tutto gli sarà sottomesso, allora anche il figlio stesso sarà sottomesso a chi gli ha sottomesso ogni cosa. Quindi loro ti dicono, vedi, sta scritto che Gesù regnerà fino a un certo momento, poi lui stesso, dice, si sottometterà al Padre. E quindi questo cosa vuol dire per i testimoni di Geova? Per i testimoni di Geova questo significa che il regno di Gesù Cristo è un regno che ha una durata limitata di soli mille anni. Finiti questi mille anni, Gesù non regnerà più. Inoltre ti dicono pure, vedi, sta scritto che sta di sotto metterà al Padre, e quindi questo vuol dire che Gesù è inferiore al Padre. Come possiamo rispondere a queste loro, diciamo, obiezioni che fanno con la scrittura? Ebbene, io ho qui uno scritto vecchio di ben 17 secoli fa. Fu scritto da San Cirillo, vescovo di Gerusalemme, nel 348 d.C., catechesi prebattesimali. E lui appunto va a confutare gli eretici che già c'erano nel IV secolo, dove appunto dicevano che il regno di Cristo arrivato ad un certo punto si doveva finire. E andavano a prendere questi passi, queste scritture. Poi c'era anche Ario. Ario negava la divinità di Cristo, diceva che era un Dio inferiore. appunto andava a prendere questo versetto, si sottoporrà al Padre, e lo interpretava dicendo, vedi, Gesù è inferiore. Lo stesso fanno oggi i testimoni di Geova. E allora cosa scrive San Cirillo, vescovo di Gerusalemme? Scrive, qualora tu senta dire da qualcuno che il regno di Cristo finirà, detesta questa eresia. E perché la dobbiamo detestare? Perché la stessa Bibbia, dobbiamo contrapporre appunto la stessa scrittura, laddove ci sono dei passi oscuri, ci sono altri passaggi della stessa scrittura che invece non sono oscuri ma sono molto chiari da comprendere. Per esempio, uno di questi lo troviamo in Giovanni, capitolo 8, versetto 35, dove Gesù stesso dice, il figlio rimane per sempre. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la natura umana di Cristo ci sarà sempre. Cioè, Cristo è vero Dio, è vero uomo, e lo sarà sempre. Perché la scrittura dice, il figlio rimane per sempre. E poi ancora abbiamo l'annuncio che fa l'arcangelo Gabriele a Maria. In Luca, capitolo 1, versetti da 32 a 33, leggiamo. Regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre, e il suo regno non avrà fine. Ecco, parlando di Gesù, dice la scrittura chiaramente, il suo regno non avrà fine, regnerà per sempre. E ancora, in Daniele, capitolo 7, versetti da 13 e 14, leggiamo. Il suo dominio è un dominio eterno, che non avrà fine, e il suo regno non sarà distrutto. Quindi qui abbiamo due scritture, che sono molto schiaccianti, chiarissime, dove dicono chiaramente che il regno di Cristo non finirà mai, ma sarà un regno eterno. Quindi non ha una durata limitata di mille anni. E ancora abbiamo altre scritture. In ebrei, nella lettera agli ebrei, capitolo 1, versetti da 8 al 12, dice, Il tuo trono, o Dio, è per i secoli dei secoli. Quindi il regno di Cristo durerà in eterno. E poi dice, Fin dall'inizio, Signore, tu hai fondato la terra e i cieli, sono opera delle tue mani, essi periranno, ma tu resterai per sempre. Tu rimani in eterno, sempre lo stesso. Senza fine sono i tuoi anni. Quindi Cristo rimane in eterno. Il suo regno è un regno eterno. Questo lo dice chiaramente la scrittura. Quindi il regno di Cristo non finirà dopo mille anni. Ma allora cosa vuol dire quando noi leggiamo che bisogna che egli regni fino a che non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi? Non vuol dire che questo è il regno di Cristo finirà. Infatti, San Cirillo ancora ora ci spiega l'uso che fa la scrittura della parola fino a e finché. Perché appunto gli eretici sono soliti fare questi errori. Prendiamo anche i protestanti, gli evangelici. Vanno a interpretare male il Vangelo, dove nel Vangelo di Matteo leggiamo che Giuseppe non conobbe Maria finché essa non ha partorito Gesù. Però loro cosa dicono? Vedi c'è scritto finché non la conobbe, però dopo significa che la conobbe. Ma non è così. Perché qui vediamo che questo versetto bisogna che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. Non vuol dire che dopo il regno di Cristo finisce. È un uso che fa la scrittura di questa parola. Ora la comprendiamo secondo quello che ci spiega qui San Cirillo, Vescovo di Gerusalemme. Vi ricordo che è uno scritto del IV secolo, esattamente scritto nel 348 d.C. Quindi è uno scritto vecchio di 17 secoli. Esaminiamo ora il valore, dice San Cirillo, dell'espressione fino a e dell'espressione finché. Per sapere che significato hanno. Io infatti con questo stesso mio discorso cercherò contrastandolo di confutare l'errore. Poiché essi osarono dire che il passo finché non abbia posto i suoi nemici sotto i suoi piedi, che significa la sua fine e osarono porre limite al regno di Cristo e porre fine con le loro parole al suo potere infinito, forse dunque leggiamo passi simili nell'Apostolo Paolo che appunto lui stesso scrive. Primo Corinto capitolo 15 versetto 25 San Paolo scrive Da Adamo fino a Mosè la morte ha regnato. Da Adamo fino a Mosè. Dunque fino a quel momento morirono gli uomini e dopo Mosè alcuni non morirono oppure dopo la legge non ci fu più morte tra gli uomini? Che significano queste parole? Non vuol dire ovviamente quando noi leggiamo Da Adamo fino a Mosè la morte ha regnato che dopo Mosè la morte non regnava più e no perché tutt'oggi ancora vediamo che si muore. Le persone muoiono. Allora ecco qui che questa parola fino non vuol dire il termine di un qualche cosa. Infatti San Cirillo dice Vedi che l'espressione fino a non indica un limite di tempo? Paolo avvertì piuttosto che pur essendo Mosè un uomo giusto e ammirevole tuttavia la sentenza di morte pronunciata contro Adamo si è stese anche a lui e a quelli dopo di lui ovviamente. E questo anche se non avessero peccato come Adamo mangiando il frutto dell'albero per disobbedienza. Ascolta ancora un altro passo simile. Fino ad oggi quando si legge Mosè un velo ricopre il loro cuore. Questo lo leggiamo in secondo Corinti capitolo 3 versetto 15. Questo fino ad oggi si intende solo fino al tempo di Paolo o fino al presente? o fino alla consumazione del mondo? Se Paolo dice ai Corinti e questo lo scrive in secondo Corinti capitolo 10 versetti da 10 a 16 Paolo scrive anche fino a voi siamo arrivati con il predicare il Vangelo di Cristo avendo la speranza con il crescere della vostra fede di evangelizzare anche le regioni più lontani da voi. Vedi chiaramente che questo fino a cioè fino a voi è arrivato il Vangelo non vuol dire il termine cioè che dopo il Vangelo non arriverà ad altri. Vedi chiaramente che questo fino a non designa la fine ma implica qualcosa che segue e così questo vale anche il passo che citano gli evangelici Giuseppe non la conobbe fino a che non ebbe non ebbe partorito il suo figlio Gesù Cristo. Questo non vuol dire che dopo la conobbe non significa la fine della verginità di Maria. Vedete questi sono esempi che troviamo nella stessa scrittura che dimostrano che quello dicono gli eretici quando vanno a prendere questi passi un po' difficili da capire e li travisano allora proprio a condanna e perdizione dice la stessa scrittura e queste parole in realtà hanno un'altra interpretazione. Nello stesso modo in cui Paolo dice altrove in ebrei capitolo 3 versetto 13 esortatevi a vicenda ogni giorno fino a che dura quest'oggi il che significa evidentemente sempre quindi fino a che a indica spesso nella scrittura indica sempre non una fine di un qualche cosa come infatti non si deve parlare dell'inizio dei giorni di Cristo così non devi sopportare che qualcuno parli della fine del suo regno il suo regno infatti è un regno eterno come sta scritto chiaramente nella scrittura e qui appunto vi ripropongo i passi che ho letto all'inizio Luca capitolo 1 32 e 33 l'arcangelo Gabriele dice chiaramente il suo regno non avrà fine regnerà per sempre e poi dice il suo dominio è un dominio eterno che non avrà fine e il suo regno non sarà distrutto Daniele capitolo 7 13 e 14 quindi vedete la scrittura è molto chiara al riguardo il regno di Cristo non avrà una durata limitata di soli mille anni ma è un regno eterno quindi allora cosa vuol dire qui la scrittura quanto dice quando poi tutto gli sarà sottomesso allora anche il figlio stesso sarà sottomesso a chi gli ha sottomesso ogni cosa vuol dire che Gesù è inferiore al padre no assolutamente no San Gerillo spiega così queste parole Gesù gli sarà certo sottomesso non perché allora incomincierebbe ad obbedire al padre poiché fa sempre ciò che a lui è gradito e qui va a citare un'altra scrittura Giovanni capitolo 8 versetto 29 Gesù ha sempre obbedito al padre io dice faccio sempre ciò che gli è gradito anche nei Vangeli leggiamo quindi non è che prima Gesù non obbediva al padre e poi dice ma perché anche allora quindi non perché allora incomincierebbe ad obbedire al padre poiché fa sempre ciò che a lui è gradito ma perché anche allora gli obbedirà non con un'obbedienza forzata ma con spontanea docilità non è infatti servo Gesù del padre costretto ha una sottomissione forzata ma figlio che presta un'obbedienza libera quindi un'obbedienza libera ed affettuosa questo è in pratica quello che qui vuole dire la scrittura non sta dicendo che il regno di Cristo finisce non sta dicendo la scrittura che Gesù è inferiore al padre perché abbiamo altri passi tanti altri passaggi della Bibbia che dicono chiaramente che Gesù è uguale al padre ma la scrittura ci dice che Gesù non perché sarà costretto non avrà una sottomissione forzata ma presta un'obbedienza libera ed affettuosa e questo lo aggiungo io perché mi è venuto in mente questo passaggio questa scrittura che troviamo nel Vangelo di Luca capitolo 2 versetto 51 dove leggiamo che Gesù stava sottomesso ai suoi genitori stava sottomesso a Maria e a Giuseppe questo non indica però che Gesù sarebbe inferiore a San Giuseppe e inferiore a sua madre ovviamente no sappiamo benissimo che Gesù è Dio il Dio che ha creato anche sua madre perché ogni cosa che è stata creata per mezzo di Lui per mezzo della parola quindi anche la madre di Gesù era un progetto da parte di Dio che viene portato a compimento per mezzo di Cristo per mezzo della parola ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui quindi anche Maria è una creatura ovviamente però essendo la madre di Dio Gesù stava dici loro sottomesso ma non perché Gesù fosse inferiore non perché Gesù aveva bisogno di sottomettersi per forza ai suoi genitori perché in realtà Lui era ed è superiore a San Giuseppe e a Maria ma questa scrittura vedete è schiacciante stava loro sottomesso lo faceva come dice San Cirillo non come un servo non costretto come una sottomissione forzata perché inferiore ma da figlio che presta un'obbedienza libera ed affettuosa verso il proprio genitore e così Cristo fa lo stesso col padre è Cristo di sua volontà che si sottomette al padre ma non perché è inferiore al padre perché la scrittura ripeto tante scritture ci sono dove attestano chiaramente che Gesù è uguale al padre Gesù stesso lo dice tutto quello che possiede il padre lo possiede anche il figlio tutto quello che fa il padre lo fa anche il figlio ci sono questi passaggi poi dice chiamava Dio suo padre facendosi uguale a lui sono passaggi della scrittura molto chiari che troviamo nei Vangeli quindi vedete quando noi leggiamo quando tutto gli sarà sottomesso allora anche il figlio stesso sarà sottomesso a Dio padre non vuol dire che Gesù è inferiore ma è la stessa cosa che leggiamo in Luca 2.51 stava loro sottomesso non perché fosse inferiore ma questione di affetto questione di libera scelta questione anche di ordine questo significa obbedienza libera ed affettuosa da parte di un figlio nei confronti del padre quindi vedete è molto semplice da confutare quello che dicono i testimoni di Ceva e anche altre sette simili l'organizzazione testimoni di Ceva insegna questo ma ci sono anche tante altre sette che si inventono eresie su Cristo e su anche altri dogmi bene una buona giornata a tutti quanti grazie